Sì, fisicamente siamo a un buon livello, abbiamo fatto due mesi e mezzo, quasi tre mesi di prestagione quindi a livello fisico siamo lì, siamo pronti, adesso stiamo un pochino preparando tatticamente anche per le due partite di agosto, però secondo me sia a livello fisico siamo a un gran livello, sicuramente meglio anche degli anni precedenti. Ovviamente dobbiamo cominciare un attimo a aiutare la squadra a come organizzarsi in campo è da un bel po' di tempo che non giochiamo a rugby, quindi c'è un po' di ruggine in giro per il campo quindi adesso stiamo un po' aiutando i diversi giocatori a capire il loro ruolo, anche giocatori nuovi per capire il nostro game plan, la nostra struttura, così adesso per le prossime settimane lavoriamo molto bene e poi per il 21 siamo pronti senza nessun problema. È uno studio senza pubblico, sarà strano sicuramente, però la cosa principale secondo me è poter giocare poter ricominciare a giocare a rugby, poi si saranno le partite anche in tv, quindi speriamo di avere tanto sostegno anche dalla televisione, però sì, sarà sicuramente molto strano qualcosa da adattarsi, però quello che ho detto, la cosa principale è poter giocare a rugby e poi da lì ricominciare un po' tutto quanto. Sì, mi sento un punto di riferimento qua nella squadra, sto provando a prendere più leadership del gruppo, ovviamente il ruolo che ho è un ruolo importante di leadership, quindi sto provando il più possibile a dare il mio massimo, aiutare i giocatori che hanno magari qualche problema, qualche chiarimento che hanno bisogno sul game plan, però sì, mi sento con abbastanza esperienza per poter aiutare i ragazzi giovani e anche quelli più vecchi, però sì, sto provando un po' a integrare in questo ruolo. Personalmente, gli obiettivi per l'anno prossimo? Sicuramente a livello fisico, mi sa che sono a un buon livello adesso, sia velocità e potenza, sto un attimo adesso provando sempre a capire meglio il nostro game plan, il nostro gioco e quello che dobbiamo fare, quindi sicuramente tatticamente è un obiettivo che voglio fare, essere molto tattico nel mio gioco, usare il piede nelle situazioni giuste, ovviamente sempre con la piazzola essere un buon riferimento per la squadra e poi con la squadra secondo me abbiamo veramente un buon gruppo quest'anno, quindi possiamo puntare, possiamo essere ambiziosi puntare a delle cose grandi, quindi speriamo che con le prime partite con le zebre possiamo un po' mostrarci e vedere la squadra che abbiamo e poi da lì ingranare e entrare nella stagione al 100%.